Questo per te è un anno personale numero 5. Avventura, libertà, cambiamenti e progresso, cambia, esplora, sperimenta ed evolvi, energia imprevedibile e caotica, tutto può succedere, analizza bene, evita distrazioni e perdite di tempo, finisci ciò che inizi, aspettati, cambi di programma e imprevisti. Flessibilità, adattabilità, positività e fiducia premiano, elimina gli ostacoli, coltiva le tue passioni, cambia in positivo, intuito e intelligenza accentuati hanno ideale per pubblicizzare e promuovere, goditi la libertà ma con moderazione.